Drammatico incidente in montagna, un ragazzino di 13 anni scivola perdendo la vita dopo un volo di 30 metri. Sinergia tra attape e polizia ferroviaria, l'azienda e il trasporto pubblico di Cordenone concede incomodato gratuito, materiale utile per l'attività di indagine e la prevenzione, tra cui test antidroga, misori notturni e kit di videosorveglianza. Guida senza patente un'auto non assicurata, nella rete della polizia locale di Cordenone finisce una 22enne croata, la passeggera viene invece portata in questura. Rivignano, assalto notturno al postamat, i residenti sono stati svegliati attorno alle 3.30 da un fortissimo botto nel mirino dei malviventi, gli uffici di piazza indipendenza. Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Avete appena ascoltato le notizie principali, le notizie che poi andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del notiziario. In primo piano la tragedia che si è consumata nel carso a perdere la vita un ragazzino di appena 13 anni dopo un volo di 30 metri. Un inseguimento stile film da parte della polizia opicina, parleremo anche di sicurezza, le novità a Pordenone anche sul fronte della collaborazione tra l'ATAP, quindi l'azienda pubblica di trasporti e la polizia ferroviaria. Scopreremo come. una ragazza di 22 anni è stata beccata sempre a Pordenone a guidare un'autovettura non assicurata, lei era anche senza patente di guida, mai conseguita. Una sua amica che era in macchina e viaggiava con lei è stata invece condotta in questura. Assalto al post amata nella notte, un doppio arresto a Pordenone. La sanità in primo piano, oggi la conferenza stampa a Pordenone tenuta da Sergio Bolzonello e da Nicola Conficoni. Si parla appunto di sperequazione nell'assegnazione delle risorse, poi parleremo anche con Alessandro Basso, il consigliere regionale che si occupa proprio all'interno della Commissione Sanità a livello regionale e poi insomma ci sarà la parte dedicata alla politica, servizi, interventi e tanti particolari. La domanda abbiamo posto nell'edizione precedente, Salvini scrive al Ministro Grillo a scuola pure i bambini non vaccinati, sei d'accordo? Sì il 14% di voi, no il restante 86%. Parliamo adesso di legittima difesa perché dopo il sì alla Camera la nuova legge sulla legittima difesa va verso l'approvazione definitiva al Senato. Ma c'è un perché, leggiamo soprattutto un problema, leggiamo subito la domanda, legittima difesa il magistrato Caselli, ora anche i ladri si armeranno. Questa appunto è la conclusione appunto del magistrato. Siete d'accordo? Cosa ne pensate? Ma da più parti si continua quindi a sollevare dei dubbi. Se io ladro so che mi possono sparare sempre e comunque mi armo, non vado più solo con il piede di porco, ha detto appunto il magistrato Giancarlo Caselli in una trasmissione radio. E così innesco una spirale che può portare chissà dove. Paroeste è una parola alla fine legittima, ma traduce un po' questi concetti. Secondo l'ex procuratore di Palermo il grave turbamento ricorda da vicino la tempesta emotiva della sentenza di Bologna sul femminicidio. Non c'è grande differenza, sono concetti molto complicati, sfumati, ci potranno essere dei problemi interpretativi. Quindi questa è la tesi del magistrato Caselli che un po' si schiera contro la legittima difesa, dice bene adesso che si potrà sparare sempre e comunque anche i ladri si armeranno, non useranno più soltanto il piede di porco. Cosa ne pensate? Siete d'accordo? SMS, Whatsapp, la nostra email, la nostra diretta streaming, Facebook ed Instagram, i nostri canali social per rimanere in contatto con noi, condividere le notizie, commentarle per capire e ovviamente essere sempre informati sulle dinamiche che accadono a nord-est. Apriamo il telegiornale con la tragedia che si è consumata sul Carso Triestino, un ragazzino di 13 anni è scivolato ed è morto sul sentiero Rilke, il primo servizio. Dramatico incidente, ieri attorno alle 17 a Duino Aurisina sul sentiero Rilke, un ragazzino di 13 anni, Alessio Rotta di Borgo San Mauro di Sistiana, è scivolato perdendo la vita dopo un volo di 30 metri. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul sentiero in compagnia della madre e ad un certo punto ha scavalcato la recinzione di protezione per raffacciarsi in un punto panoramico. Il fogliame presente al suolo gli avrebbe fatto perdere aderenza facendolo precipitare. Sul posto sono arrivate subito le squadre speciali dei vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico e l'ali soccorso. Il team presente sul velivolo ha effettuato subito una verricellata in parete non potendo far altro che constatare il decesso del giovane. La sua caduta è stata fermata dopo 30 metri su una cengia per recuperarlo. È stato necessario che i soccorritori, due vigili del fuoco e quattro tecnici del soccorso alpino, si calassero in un primo tempo fino alla cengia e poi, sistemato il ragazzo sulla varella, effettuassero con la stessa ulteriori calate di corda per circa altri 60 metri fino ai piedi della parete rocciosa. Sul posto le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi di legge. Le operazioni si sono concluse attorno alle 20 e 30 di ieri sera. Scene da film a opicina, un inseguimento proprio stile film, quelli che solitamente guardiamo e osserviamo sui principali network nazionali ed internazionali da parte della polizia. I particolari nel prossimo servizio. Scene da film ieri sera a opicina per un inseguimento da parte della polizia di una BMW nera. Nel corso di un consuetto controllo da parte degli agenti, la macchina di grossa cilindrata è sfrecciata davanti a loro senza fermarsi. Immediato è partito l'inseguimento all'auto, da cui targa si è apurato essere senza copertura assicurativa e frutto di appropriazione in debita. L'inseguimento è avvenuto nel centro di opicina. L'auto, con a bordo almeno due persone, poi è uscita dal centro abitato dirigendosi verso Muggia e dandosi alla fuga. Per risalire al mezzo allertata anche la polizia slovena. Atap e Polizia Ferroviaria, partnership all'insegna della sicurezza, l'azienda di trasporto pubblico concede in comodato gratuito materiale utile per l'attività di indagine e la prevenzione, tra cui test antidroga, visori notturni e kit di videosorveglianza. Una partnership che si rinnova tra l'Atap e il compartimento regionale di polizia ferroviaria. Nello specifico, il posto Polfer di Pordenone si rafforza con la collaborazione all'insegna della sicurezza degli utenti del trasporto pubblico. Migliaia alle persone che frequentano quotidianamente sia l'ambito della stazione ferroviaria sia la diacente autostazione servita dai bus dell'Atap. Si tratta di un punto nevralgico della sicurezza cittadina, che proprio per questo necessita di accorgimenti sempre più evoluti e moderni. In tal senso va intesa la decisione del Consiglio di amministrazione dell'azienda di trasporto pubblico, presieduta da Narciso Gaspardo, di concedere incomodato d'uso gratuito agli agenti della Polizia Ferroviaria di Pordenone alcuni dispositivi utili nell'attività di indagine e anche in ottica preventiva. La consegna è avvenuta nella sede della Polfer, alla presenza della dirigente del compartimento regionale di Trieste, Anna Rita Sant'Antonio, del dirigente della sezione di Udine Stefano Cadelli e del responsabile del posto Polfer di Pordenone, Riccardo Bozzo. A loro Narciso Gaspardo ha consegnato il materiale acquistato, con l'auspicio di rafforzare la già proficua sinergia istituzionale in corso. La tutela dei viaggiatori attualmente non può prescindere dall'utilizzo di alcuni strumenti, come quelli rientrati nell'accordo di comando sottoscritto tra le parti, tra questi drop test, che consentono di individuare immediatamente la presenza di sostanze stupefacenti, visori notturni, localizzatori satellitari e kit di videosorveglianza. Fortunatamente, ha dichiarato il responsabile della Polfer di Pordenone, Riccardo Bozzo, non si sono registrati, almeno nell'ultimo periodo, casi di particolare gravità, ma bisogna tenere alta la soglia di attenzione. I nuovi dispositivi ci aiuteranno a svolgere il nostro compito in maniera ancora più efficace. Pensate, guida senza patente, un'auto non assicurata nella rete della Polizia Locale di Pordenone, finisce una 22N croata che ovviamente finisce nei guai. Continuano i controlli nel territorio della Polizia Locale di Pordenone e Cordenons contro le violazioni del codice della strada. Ieri pomeriggio, gli agenti guidati dal comandante Rossi hanno fermato una Volkswagen Polo con a bordo tre donne croate, di cui una minorenne. Dagli accertamenti è risultato che l'auto sulla quale viaggiavano non fosse assicurata. Inoltre la conducente, una donna croata di 22 anni con precedenti preati contro il patrimonio, ha esibito la fotocopia di una patente croata, intestata a suo nome, risultato inesistente, con tanto di traduzione da parte di interprete. È stata quindi sanzionata per guida senza patente e denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale. Ha ricevuto in totale sanzioni per 6.000 euro, sequestro del mezzo più il fermo per tre mesi con affidamento a un deposito autorizzato. Sequestrata anche la fotocopia della patente e la traduzione. Negli ultimi giorni sono state combinate numerosi sanzioni da parte degli agenti della polizia locale. Una per un cantiere irregolare, 10 per mancate revisioni, una sanzione per un autoveicolo con doppia immatricolazione italiana e bulgara per circolazione con targhe non proprie, una guida con patente straniera non convertita, due verbali per omessa a precedenza, un verbale per omessa distanza di sicurezza, tre verbali per guida con telefonino, quattro verbali per mancanza dell'assicurazione, un verbale per guida con patente sospesa, due per sosta in stalli riservati disabili in via Sanquirino e in piazza Duca d'Aosta. Inoltre, vista anche l'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 93 del codice della strada, è stata controllata in via Levenezza una vettura con targa tedesca. Gli agenti hanno appurato che la cinquantenne proprietaria è residente a Pordenone da 12 anni e che la stessa era in possesso di una patente tedesca senza scadenza, della quale non aveva richiesto la conversione in patente italiana entro i due anni dalla residenza. Da qui la contestazione dell'articolo 93 e la mancata conversione della patente, con il ritiro della stessa. È la dimostrazione che i nostri agenti sono presenti in modo sistematico a presidiare il territorio e la sicurezza stradale, dichiara l'assessore Loperfido, soddisfatto dell'operazione, e con grande professionalità e competenza, come dimostrano le numerose diverse tipologie di contestazioni effettuate, per garantire la sicurezza ai cittadini e la viabilità cittadina. Boato nella notte a Rivignano, fatto saltare in area, fatto esplodere il postamat, il servizio. Lo sportello Bancomat dell'ufficio postale di Rivignano, preso d'assalto in piena notte da una banda di malviventi a bordo di un'auto che ha sfondato la vetrata, riuscendo ad avere successo allo sportello automatico. Il frastuono ha svegliato diverse persone residenti nella zona. Nonostante questo, i ladri, tre persone, hanno avuto il tempo di saccheggiare il postamat, facendo saltare, riuscendo a portare via, secondo le prime stime, 45 mila euro in contanti. La banda si è dileguata prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e della vigilanza privata. Sul posto è stato reso necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco, del distaccamento di Latisana, a causa di un principio d'incendio sviluppatosi dopo l'esplosione. I ladri hanno abbandonato sul posto l'auto utilizzata con marietta e rubata poco prima, allontanandosi in tutta velocità con un mezzo di grossa cilindrata. Indagini in corso. Parliamo ora di un doppio arresto nelle ultime ore da parte della Polizia di Stato di Pordenone. I particolari in questo servizio. Due persone sono state arrestate nelle ultime ore dalla Polizia di Stato di Pordenone. Il primo è un diciottenne nato in Romania, residente nella città sulle rive del Noncello, che ieri mattina, attorno alle 10.30, pur trovandosi ai domiciliari per rapina impropria, si era allontanato dall'abitazione. Le immediate ricerche della squadra volante hanno consentito di rintracciarlo in Viale Venezia di Accertale, che lo stesso era in possesso di una bottiglia di liquore che da un immediato riscontro è risultata essere stata rubata poco prima presso il supermercato Conad, situato a Pordenone in Viale Grigoletti. Il giovane è stato arrestato per evasione e furto. Il secondo episodio risale sempre alla giornata di ieri, quando alle 17.30, personale della Polizia Locale ha accompagnato in questura per accertare le esatte identità di tre cittadine croate che erano state controllate mentre transitavano a bordo di un'autovettura Volkswagen Polo lungo Viale Grigoletti. Nel corso degli accertamenti è emerso che una delle tre cittadine croate, identificata tramite i riscontri della Banca Dati del Ministero dell'Interno, era una 21enne senza fissa dimora con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Risultava essere destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, dovendo espiare la pena di un anno, tre mesi e 28 giorni di reclusione in quanto riconosciuta colpevole di vari furti in abitazione commessi a Parma nel 2016. Al termine delle formalità di rito, la cittadina croata è stata accompagnata dal personale della questura presso la casa circondariale di Trieste. Apriamo il capitolo legato alla sanità dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del vice presidente della giunta regionale in Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Oggi è arrivata la replica da parte del già vice governatore del Friuli Venezia Giulia, ora capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico, Sergio Bolzonello, assieme al consigliere Conficoni. Prodenonese secondo loro penalizzato, il centrodestra dice ripensi ai tagli lineari. Il Partito Democratico ha aperto il dialogo sul percorso di riequilibrio delle risorse e l'azienda sanitaria 5 del Friuli occidentale bloccato nel 2018. Oggi la conferenza stampa, sentiamo allora le loro dichiarazioni. La nostra è una conferenza stampa che vuole essere un contributo che vogliamo dare al dibattito sul tema della sanità in generale nel Pordenonese e della sperequazione in particolare. Nicola Conficoni che partecipa ai lavori della terza commissione consigliare ed io in qualità di capogruppo, quindi il gruppo consigliare del PD, vuole dare un contributo a tutto questo. Come lo fa? Lo fa attraverso un piccolo studio che abbiamo messo, che mettiamo a disposizione di tutti in cui viene evidenziata questa sperequazione negli anni, una preparazione che parte da lontano, ricordatevi lo studio di Abele Casetta, quindi ancora in anni passati, che recentemente la vostra collega Elena Del Giudice ha, in uno dei quotidiani locali, ha messo in maniera molto chiara in evidenza e da lì siamo partiti per capire se questi dati erano dati reali o meno. Questo studio porta a dirci che abbiamo nel tempo recuperato un po' di questa sperequazione applicando i costi standard in sanità rispetto ai costi storici, ma le ultime due manovre della nuova amministrazione regionale hanno portato, quella di luglio e soprattutto quella di novembre, ha portato nuovamente a un divario superiore addirittura al 2013. Allora quello che noi chiediamo alla nuova amministrazione e anche ai consiglieri di maggioranza di questo territorio è, noi vi mettiamo a disposizione questo contributo, vi facciamo vedere esattamente come sono i numeri che fra l'altro probabilmente sapete anche voi, pensate di poter in qualche modo riuscire a dare una visione diversa, cioè pensate di poter fare un riequilibrio ritornando ai costi standard rispetto ai costi storici o che parametri mettete in atto per attuare questo inizio di minor sperequazione? La nostra attenzione nei confronti della sperequazione subita dalla sanità pordeonese rispetto a quella regionale è sempre stata molto alta, tant'è che proprio per questo motivo portiamo all'attenzione dell'opinione pubblica questo documento. Non è questa un'occasione per polemizzare, però i dati che emergono evidenziano come davvero sia paradossale parlare di tagli ulteriori per la sanità pordeonese. Crediamo che proprio a partire da questa riduzione della spesa per il personale bisogna dare un segnale di inversione di tendenza, rapido e immediato. Ci aspettiamo che qualcosa accada dopo questo nostro contributo, qualcosa che sia positivo per i cittadini della provincia di Pordenone. Queste dunque le dichiarazioni da parte di Bolzonello e Conficoni. Io ripartirei proprio da una considerazione fatta da Sergio Bolzonello. Le ultime due manovre fatte dalla nuova amministrazione e dalla nuova maggioranza regionale hanno portato a un divario della sanità e le ricadute poi sul territorio pordeonese sono evidenti, superiore addirittura al 2013. Conficoni invece dice speriamo che dopo questa conferenza stampa qualcosa repentinamente possa cambiare. Io giustamente, è giusto sentire le due campane, il centro-sinistra e il centro-destra. D'altre cose, l'ospite che interverrà tra qualche istante è vicepresidente della commissione sanità proprio in regione. Dove ben ritrovato la dottora Alessandro Basso, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per Fratelli d'Italia. Grazie ancora dottore per essere in nostra compagnia. Grazie a voi caro direttore. Beh, devo dire che questa conferenza stampa... Come è rimasto a sentire certe dichiarazioni? Cioè c'è così un problema di sperequazione? Quasi, mi viene quasi da rossire a sentire queste dichiarazioni perché io mi domando, avrei bisogno di una trasmissione intera per poter confruttare queste parole che sono a dir poco imbarazzanti, anzi vi ringrazio per poter portare la verità ai nostri telespettatori perché le parole pronunciate dal capogruppo Bozzonello e dal consigliere Confoconi rappresentano la mezzogna, quello che do io rappresenta la verità. Potrei sembrare presuntuoso però cercherò ovviamente di argomentare quanto sto asserendo. Intanto questa nuova amministrazione non ha ancora fatto due manovre perché abbiamo appena fatto un bilancio, il primo bilancio, quello che si fa a dicembre, quindi non so a cosa si riferisca in merito alle due manovre e abbiamo fatto una riforma, un pezzettino, una prima parte di riforma sanitaria per coprire i tanti e tali errori che sono stati commessi dalla giunta Serracchiani e purtroppo il nostro rappresentante pordenonese che adesso sfodera una conferenza di Yalta di Potsdam come mezzo salvifico per i problemi della sanità regionale e viene a insegnare a chi sta governando bene, sta cercando di colmare i suoi errori, è davvero imbarazzante e anche se vogliamo tirarlo fuori dalla metafora e dalla battuta potrebbe quasi far arrabbiare i cittadini perché se c'era uno studio del Partito Democratico per far andare bene la sanità locale, perché questo studio è stato tirato fuori a sei mesi, a otto mesi dalle elezioni e non è stato tirato fuori invece quando loro governavano e governavano la sanità che è arrivata a tali livelli di pericolosità, anche se va sempre detto direttore che la sanità friulana del Friuli Venezia Giulia è un'ottima sanità, è un'ottima sanità per gli operatori, per i medici e per le persone che vi lavorano. Vi sono dei problemi, quello che abbiamo fatto noi non è arzigogolare da burocrati, da commercialisti rispetto a quali sono i costi standard o i costi storici, perché questa è materia da burocrati e l'assessore Riccardi penso sia tra l'altro l'esponente politico che probabilmente ha più esperienza all'interno della Giunta per poter governare questo tipo di processo. I nostri problemi sono capire come risolvere il problema delle liste d'attesa, come risolvere il problema del pronto soccorso, come non ultimo, anzi non mettere nel primo posto, risolvere il problema, come tamponare, non risolvere perché non lo risolveremo probabilmente nell'immediato, il problema del nosocomio pordenonese, il problema dell'ospedale di Pordenone, un ospedale incompleto che mangia continuamente soldi per poter arrivare all'addirittura finale, perché come quando noi ristrutturiamo una casa e partiamo in una ristrutturazione, sappiamo che abbiamo un preventivo e dopo si spende sempre di più, queste sono le risposte che noi dobbiamo dare. È anche chiaro che i cittadini non preoccupa sentire che devono esserci degli investimenti sul personale oppure delle razionalizzazioni non quantitative sul personale, perché il bilancio della sanità nella nostra regione occupa 3 miliardi di euro, 3-4 miliardi di euro, è chiaro che spendiamo tanto, ma è bene che si spendano i soldi per la sanità. Va detta una cosa però, questa nuova amministrazione in pochi mesi che cosa ha portato? Ha portato il primo e unico grande investimento nella sanità nel nostro territorio, ovvero la macchina protonica al Cro, tra l'altro la protonterapia che se per il vicepresidente e il compagno Conficoni sono cose da poco, per noi non lo sono assolutamente, perché significa dare prospettiva al Cro, significa dare prospettive di cura e di salvezza per tanti ammalati e noi ci occupiamo sicuramente di questo. Che loro facciano una conferenza stampa dopo pochi mesi di mandato per sollevare la questione mi pare davvero imbarazzante, mi meraviglio, anzi dell'esperienza di Bolzonello, di Conficoni non mi meraviglio, ma di Bolzonello sì un pochino perché è un uomo che ha grande esperienza e probabilmente è stato implicato in questa vicenda anche involontariamente perché lui sa come sono le cose, sa quali problemi noi ci troviamo in questo momento ad affrontare e sa con quale fatica stiamo cercando di risollevare la china per risolvere questi tanti problemi perché le persone devono avere delle risposte. Consigliere c'è un altro aspetto che riguarda sempre la sanità che vorrei analizzare rapidamente con lei, la concorrenza che a breve ci potrebbe fare il vicino Veneto. Abbiamo sentito tutti i milioni che la sanità, che Zaia e compagnia Briscola stanno investendo appunto nelle strutture ospedaliere con centri totalmente all'avanguardia, se adesso i Veneti sono spostati verso la nostra sanità trovando un servizio sicuramente eccellente tra qualche anno magari potremmo subire un'inversione di tendenza. È preoccupato da questo aspetto? Non sono affatto preoccupato perché quello che dobbiamo fare noi è quello di riuscire ad intercettare invece pazienti che vengano in Friuli e lasciano i loro soldi nel Friuli Venezia Giulia. Certo, i cinque anni precedenti hanno determinato questo, una sanità di confine. Che cosa ha fatto Zaia nel suo mandato? Ha potenziato gli ospedali di confine tra Friuli e Veneto in modo tale che le persone che abitano soprattutto a ridosso di questi territori potessero servirsi dei servizi del Veneto e non di quelli del Friuli Venezia Giulia. E noi dobbiamo sorpassare questo problema come, un esempio fra tutti, quello di dotarci di macchinari che possano in qualche modo far fare le visite ai nostri pazienti. Penso alla questione che può sembrare banale della macchina risonanza aperta perché ormai tutti quando andiamo a fare una risonanza magnetica la vogliamo fare aperta, dobbiamo avere una maggiore quantità ed efficienza di questi macchinari per poter aumentare gli orari e poter far sì che le persone se ne servano. L'altro investimento che porterà sicuramente pazienti è quello del robot chirurgico, ma io da questo punto di vista sono fiducioso perché tra l'altro, come dicevo prima, quello che noi abbiamo fatto è un primo pezzetto di riforma sanitaria. Il prossimo anno andremo a lavorare su altri aspetti. Certo, perché sono talmente temi complessi che è giusto lavorare per tranche, per step. E le persone chiedono, i cittadini ci chiedono, ma perché vi siete occupati della governance prima ancora che di questi aspetti? Perché come in una qualsiasi impresa il pesce puzza dalla testa, i problemi si verificano agli aspetti gestionali e logistici, questo accade anche per noi. Questo non vuol dire che c'è nessuno che puzza per carità, ma dobbiamo fare in modo che si risolvano i problemi di governance, la creazione dell'azienda zero va in tal senso, la revisione un po' dell'apparato in generale dal punto di vista gestionale nell'altro senso, per poter fare in modo che poi a cascata si possano risolvere gli altri problemi. Io sono convinto che ce la faremo perché già c'è un riavvicinamento di medici, c'è un riposizionamento da questo punto di vista e quindi potremmo dare sicuramente nel tempo perché i problemi della sanità non si risolvono. Gli dice che si risolvano in pochi mesi, fa conferenze stampa, noi governiamo. Senta, quindi possiamo tranquillizzare i nostri cittadini? Assolutamente sì. Ci sarà un tipo di... Benissimo, lo garantisce il Vice Presidente della Commissione Sanità in Regione Polivenezia Giulia, grazie al Dottor Alessandro Basso per essere stato in nostra compagna e per aver appunto ristabilito, secondo il suo modo di dire, la tranquillità e anche appunto la notizia giusta. Grazie davvero per essere stato con noi. Parliamo di viaggi dal 19 di marzo, una nuova rubrica che apre qui a Telepordenone, il promo. Viaggiando insieme sarà la nuova rubrica che decollerà a partire dal 19 marzo, appuntamento per adesso, il martedì e il venerdì dalle 18.20 alle 18.35 con replica il mercoledì e il sabato dalle 13 alle 13.15. Avete fatto un viaggio, vi siete appassionati di viaggi, per questo siete anche magari dei fotografi, dei cameraman ovviamente amatoriali, avete filmato il vostro viaggio, magari con qualche commento, con qualche considerazione. Bene, potete tranquillamente inviarci i vostri video all'indirizzo email che vedete in sovra impressione, emissione chiocciolatelepordenone.tv. Non vi preoccupate del montaggio, quello ci pensiamo. Noi ci sono dei ragazzi che hanno giustamente studiato, hanno fatto degli studi universitari, quindi sono specializzati appunto per queste dinamiche, quindi mandate il video nudo e crudo, 10, 15, 20 file, mandateci. Sarete voi i protagonisti di questo nuovo format viaggiando insieme. Tra le altre cose stiamo anche definendo il premio che riceveranno, che riceverà la persona o la coppia che ci invierà il video maggiormente cliccato poi nella pagina Facebook Viaggiando Insieme Telepordenone. Riceverà un buono, un voucher, addirittura un viaggio completo in uno degli spettacolari posti suggestivi o dell'Italia o dell'Europa. Frettatevi, stanno già arrivando dei video. Questo l'esempio. Allora Maurizio, vediamo dalla regia se ci mandi proprio un esempio di un video, uno spezzone che ci è arrivato proprio oggi, una piccolissima parte. Voi cercate appunto di fare ancora meglio. Rovaniemi, Lapponia, Santa Claus Village. Una favola. Guardate qui che bello. Paesaggio da cartolina sicuramente, insomma, Lapponia. Siamo nel Polo Nord. Grazie a Michela Diaviano che ci ha appunto mandato questo contributo. Avete visto? Semplicissimo, cellulare, fate dei video e ce li mandate. Poi faremo il montaggio e sarete voi i protagonisti di questo nuovo format. Messo a dimora in comunità, il minore arrestato ha traviso per furto. Poi rientriamo in studio con il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Arrestato uno dei complici del furto con scasso compiuto in un'abitazione di Via dei Laghi a Fusine. Il furto è stato commesso nella prima metà del mese scorso, quando in azione è entrata una banda composta da due soggetti individuati dal nucleo radiomobile della compagnia di Tarvisio, in un giovane di quasi 17 anni e in uno di 22 entrambi del luogo. Il 28 febbraio il minorenne era stato deferito in stato di libertà, segnalandolo alla competente procura della Repubblica, unitamente all'altro soggetto maggiorenne. Su conto del ragazzo accusato di furto aggravato in concorso è stata emessa ed eseguita poi la misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorelli di Trieste. I carabinieri, sempre 28 febbraio, avevano sequestrato l'area furtiva, consistente in una stufa pellet del valore complessivo di 3.000 euro, raccogliendo ulteriori elementi a carico di due esecutori del furto. Dalle successive perquisizioni personali e dall'abitazione era stata rinvenuta anche una pistola Beretta calibro 92 FS Soft Air, priva cioè del tappo rosso di sicurezza, sequestrata a carico del minore collocato in comunità. I carabinieri stanno ora approfondendo gli accertamenti sul conto dei due, al fine di valutare eventuali responsabilità in ordine di altri analoghi furti compiuti nel territorio tarvisiano nell'ultimo periodo. Come anticipato con noi c'è il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, grazie sindaco per essere ritornato nei nostri studi. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti dei lavori che stanno animando la città e che la animeranno appunto fino alla fine del mandato, però una città insomma rivive soprattutto grazie al commercio. Sabato una conferenza stampa per rappresentare il bando imprese, 3 milioni e mezzo per le piccole e medie imprese e il commercio cittadino. Ecco ci può dare qualche anticipazione perché insomma abbiamo parlato di opere pubbliche ma è giusto anche dare diciamo così la possibilità anche agli imprenditori, ai commercianti appunto di poter crescere e soprattutto di poter vivere al meglio all'interno della nostra città. Beh certo, ci eravamo impegnati ad intervenire a favore del mondo imprenditoriale cittadino e questo impegno domani prenderà concretezza. Approveremo un documento che di fatto libera 3 milioni e mezzo di euro, che non sono pochi, a favore delle attività commerciali, artigianali, imprenditoriali con un particolare riferimento alla zona dell'ipercentro, quindi una zona molto vasta che riguarda la nostra città ma che colpisce in parte anche i nostri quartieri, le nostre periferie per consentire di fare acquisti ed interventi che migliorino l'offerta commerciale o imprenditoriale, pensiamo ad esempio alle start up, alle imprese più giovani, per aumentare l'offerta commerciale o imprenditoriale della città e per migliorarne la qualità. Noi interveniamo con 3 milioni e mezzo che finanzieranno il 70% delle spese ammissibili, il 30% sarà a carico dei beneficiari, quindi sostanzialmente muoveremo qualcosa come 5 milioni, 6 milioni di euro sul territorio portoglionese. Sì, noi siamo stati tra i 4 comuni in Italia che hanno utilizzato i soldi del bando periferie non esclusivamente per opere ma anche cosiddetta parte corrente, cioè proprio per andare a intercettare quali sono i bisogni di queste categorie. L'abbiamo fatto ascoltando le categorie economiche, cioè costruendo un bando che non è autoreferenziale ma che al contrario ha accolto e recepito una serie di suggerimenti. Si va banalmente dai contributi per la sistemazione di ore esterne, quindi rendendo la città più bella, l'acquisto di mezzi elettrici, la sistemazione delle vetrine, delle insegne, degli arredi, dei mobili, ai contributi per l'apertura di nuove attività, soprattutto se sono attività che vengono valutate che possono avere una resistenza, la possibilità di resistere a quella che è una difficoltà commerciale. Lo dico chiaramente, mi rendo conto che noi non saremo quelli che potranno far paura ad Amazon che è il vero concorrente spietato delle attività commerciali o imprenditoriali di questo territorio, ma credo che sia un segnale di impegno, di disponibilità e di vicinanza a chi ogni giorno apre la propria serra cinesca o ha una partita IVA, un segno di vicinanza concreta di questo comune che sta cercando di fare tutto, insomma ce la stiamo mettendo tutta per rendere la città più bella ma anche più attrattiva e sostanzialmente possibilmente anche più ricca. Sindaco di Riservi, abbiamo parlato con il Presidente di Comf Commercio Pordenone, Ascom Commercio l'architetto Marchiori. Abbiamo analizzato un po' la situazione nazionale regionale e locale, giustamente diciamo siamo in una fase di recessione tecnica, mi auguro che da parte dell'amministrazione e anche del governo venga messa liquidità, venga messo mano appunto al portafoglio e aiutate appunto l'impresa perché altrimenti non so come e dove andremo a finire. Che situazione vede all'orizzonte? Ma soprattutto Pordenone come sta rispondendo dal punto di vista commerciale? È ancora un po' l'attrattivo? Guardi, l'architetto Marchiori è sicuramente persona molto capace, molto competente, quindi quello che dice è assolutamente vero. Con Ascom noi abbiamo tessuto un rapporto costante di collaborazione perché riteniamo come dicevo prima che sia sciocco mettere in campo delle politiche che non siano condivise anche da chi poi dovrà beneficiarne. Il commercio è sicuramente la parte più fragile e più debole del sistema imprenditoriale della nostra città. Ha scontato nel passato la politica sbagliata, profondamente sbagliata, che certamente non è scrivibile a questa amministrazione, creata in netta controtendenza di autorizzare l'apertura di centri commerciali nella cintura di Pordenone, queste grandi strutture che hanno soffocato i centri storici, cioè quel centro commerciale naturale che rappresentava una volta i centri storici della nostra città e che noi vorremmo invece ripristinare. Oggi anche che le grandi strutture commerciali incominciano a soffrire a scricchiolare per certi versi, però c'è quella concorrenza spietata dell'e-commerce, quindi del commercio elettronico che invece è molto più difficile da contrastare. Questo però riguarda regimi di carattere fiscale che devono essere rivisti e che nessuno sta prendendo in considerazione, anche di natura ambientale perché se voi pensate che una valanga di imballaggi oggi vengono stoccati per effetto di Amazon o di altri mercati elettronici che spediscono il materiale ad un prezzo inferiore scaricando poi le responsabilità dello smaltimento del rifiuto, quindi l'imballaggio sulle comunità, ecco che queste sono le considerazioni da fare. Noi come possiamo rintuzzarli? Le politiche fiscali di equità tra chi apre la propria serranda, deve aprire la luce, ha dei commessi, paga le tassi, tributi locali, spedto ovviamente soprattutto al governo centrale che dovrà mettere in campo secondo me misure più efficaci a favore del commercio. C'è un aspetto culturale che è quello di non perdere la socialità, di ritrovarsi in un negozio, di parlare con qualcuno, di non stare sempre davanti a un terminale anche per ordinarsi magari un paio di scarpe o addirittura la cena per la sera. Da parte nostra noi abbiamo messo in campo tre azioni che è quella della riqualificazione urbanistica che è in parte partita ma che avrà ripeto il suo apice tra quest'anno, il 2020 e in parte il 2021, quindi rende la città decisamente più bella, più funzionale, più moderna che va dalla sosta al trasporto pubblico locale all'estetica delle nostre piazze, delle nostre strade, dei nostri edifici. Accanto a questo un sistema di incentivazione, di aiuto come questi 3 milioni e mezzo, ma abbiamo appena liquidato 100 mila per l'attività periferica, cioè quelle proprio fuori, quasi ai confini di Pordenone che sono quegli eroi che riescono a stare in piedi e che hanno piccole esigenze magari per sistemare il bancone piuttosto che la vetrina. Quindi abbiamo messo a disposizione anche questi soldi. Il terzo è la vitalità culturale, continuare ad insistere per fare manifestazioni di eventi che portino gente in città, che la rendono la città vivace, bella, attrativa. Abbiamo visto il carnevale, il martedì di Grasso, il Natale, una serie di eventi. Di fatto c'è un ventaglio ormai che dura tutto l'anno di eventi culturali, aggregativi, sportivi o di altra natura che consentono a Pordenone di svolgere davvero il ruolo di capoluogo. Dobbiamo rendere la viabilità principale più fluida per consentire di avere problemi più facilmente, il nodo del ponte Meduna, la rotonda su via interna. Sono tutte questioni da non affrontare per tempo. Non si sono affrontate nel passato perché? Perché quando c'è la ricchezza, io ricordo sempre che nel 2007 la disoccupazione di questa città era per quella maschile sotto il 2%, quella complessiva sotto nettamente il 3%, quindi c'era piena occupazione, si stava bene, questi problemi non venivano affrontati. Oggi è cambiato tutto e quindi uno dei compiti di questa amministrazione è anche quello di recuperare le lacune e i gap che sono stati lasciati e che noi abbiamo ereditati e quindi ce la metteremo tutta. Però se da un lato l'amministrazione regionale continua su questa linea di darci finanziamenti, aiuti e di guardare al bene del territorio, soprattutto sulle opere pubbliche, se l'amministrazione sa mettere in campo questi soldi e gestirli bene e quindi rifare un restagno della città e renderla più moderna, se dall'altro lato riusciamo anche ad attrarre gente e ricostruire appunto il centro commerciale naturale, abbiamo vinto. Perché le ricordo questo, c'è tanta gente che va, e non voglio parlare male di, perché anche quelle sono attività produttive, di San Donà, San Donà è la riproduzione di un centro storico in cartone, cartongesso e plastica. Quando noi abbiamo un bellissimo centro naturale che è il centro di Pordenone che ha le proprie vetrine, dobbiamo fare in modo che ci sia un'offerta sempre più ampia, sempre più di qualità che attragga la gente a spendere in centro, dobbiamo fare in modo che in centro ci siano servizi dal baby care, cioè dove lascio i miei bambini, la possibilità di parcheggiare agevolmente, la possibilità di avere sconti, di avere una sosta molto comoda, di potercelo raggiungere magari a piedi o con un sistema di trasporto pubblico. Stiamo ragionando su tutti questi aspetti, non sono cose che si fanno in due giorni o in due mesi, ma se si iniziano a mettere in campo questi strumenti e se poi le altre amministrazioni, cinque anni dopo di me e dopo chi verrà anche dopo di me, cioè se si passa questo testimone, si costruisce una nuova cultura urbanistica e commerciale che può in qualche maniera mitigare gli effetti della concorrenza aspettata dell'e-commerce e delle grandi strutture commerciali. Grazie davvero ad Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, poi tornerà con noi nei prossimi appuntamenti. Andiamo subito in Veneto e parliamo di eventi e di manifestazioni anche con Rosario Padovano in compagnia dell'assessore Geronazzo. Grazie direttore Luigi Geronazzo, assessore agli eventi e alle manifestazioni a Portogruaro, assessore alle attività produttive. Siamo entrati in periodo di quaresima. il carnevale è trascorso e martedì grasso c'è stata un'importante festa a Portogruaro grazie anche all'associazione Portogruaro insieme. Per la prima volta però assessore Geronazzo si è verificato qualcosa di veramente grandioso da riproporre anche, credo, nei prossimi anni, l'arrivo delle maschere dal fiume Lemene in barca. Una festicciola, una cerimonia che vuole diventare una grande tradizione per la città. Sì, quest'anno come tutti gli anni abbiamo fatto il carnevale dei bambini, il carnevale dei bambini con delle animazioni come tutti gli anni in piazza, ma abbiamo voluto aggiungere un qualcosa di più, un qualcosa che secondo la nostra amministrazione nella zona del Portogruaro se non c'è, il carnevale che arriva dall'acqua per dare anche una continuità di vicinanza alla nostra beniamata Venezia. Quindi questo è stato un inizio, abbiamo visto che si può continuare a fare, è un'iniziativa bella. Ho visto la gente molto contenta di vedere le maschere, arrivare con le nostre tradizionali caorline assieme alla Voga Concordiese che fa parte ogni volta che il Portogruaro chiama la Voga Concordiese, sempre presente, quindi è una vicinanza anche tra le due cittadine. Che dire, è stata una bella iniziativa, vogliamo continuare e il prossimo anno pensiamo già di allargare e fare anche dei veri e propri spettacoli nell'acqua, quindi un'attrazione diversa dalle solite caratterie. Perché comunque è fortissimo il legame di Portogruaro con l'acqua, d'altronde il fiume Lemene era l'autostrada quando non c'erano le macchine, insomma. La città è nata nel fiume Lemene, quindi chiamano la città nell'acqua a Portogruaro. Le merci arrivavano qui, poi a Portogruaro in sopra c'erano delle dispense speciali grazie della Repubblica di Venezia, per cui era un polo d'attrazione molto importante per i commerci, era una specie di interporto delle barche. A Portogruaro è nata così. Esatto e soprattutto il legame con l'acqua è rafforzato da cerimonie, tradizioni come lei ha specificato che ci saranno anche da qui ai prossimi tempi. Prima ancora della Madonna della Pescheria con l'arrivo in barca delle delegazioni concordiesi, una tradizione che si perpetra da secoli, ci sarà Terre dei Dogi, Terre dei Dogi che quest'anno verrà collocata a metà maggio. Possiamo già ufficializzare qualche novità? Sì, diciamo che Terre dei Dogi verrà collocata a 17, 18 e 19 maggio. Qual è la novità? Quest'anno ci sono diverse novità, stiamo organizzandola, stiamo organizzandola assieme all'ASCOM, all'ASCOM di Portogruaro, Bibione Caorle, un partner che da sempre vuole e ci dà una mano a fare questa magnifica manifestazione. Questa manifestazione presenta i nostri prodotti locali, tipici, proprio per far vedere la produzione che abbiamo noi nella nostra introterra. Noi siamo una vocazione agricola, qui quindi abbiamo invitato anche, che già da due o tre anni non c'è, la Coldiretti, la Coldiretti ci ha dato subito entusiasmo. Sì, anche noi quest'anno vogliamo partecipare, quindi la novità è che quest'anno in piazza ci sarà anche la Coldiretti. Ecco, quindi una manifestazione Terre dei Dogi che attira anche dei partner nuovi o garantisce il ritorno di partner che una volta davano il proprio sostegno e che quindi vogliono ritornare. Questo è sicuramente fotografia di un successo. Grazie Luigi Geronazzo, assessore dell'attività produttiva di Portogruaro. Restituiamo la linea, la redazione centrale. Sorpresa a rubare al centro commerciale con una bambina di undici anni, nomada arrestata a Villorba dai carabinieri di Treviso. Il servizio. Una nomade di venticinque anni è stata arrestata ieri sera attorno alle diciotto e trenta dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso con l'accusa di furto aggravato. La donna, che si trovava al centro commerciale Panorama di Villorba in compagnia di una bambina di undici anni che diceva di essere la figlia, è stata sorpresa mentre si impossessava di alcuni prodotti per un valore complessivo di 320 euro. Trattasi di capi di abbigliamento e di merce per l'igiene personale. I carabinieri hanno provveduto a portare la venticinqueenne nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. La bambina è stata invece affidata ad alcuni familiari. La merce è stata riconsegnata agli aventi diritto. Educare ad ascoltare, educare all'ascolto. Ce ne parla in questo spazio che gli concediamo settimanalmente, Monsignor Angelo Santarossa. L'hai ritrovato, Monsignore. Grazie, buonasera. Credo che sia il mestiere più difficile che hanno i genitori, che hanno i maestri, i professori e gli educatori. Innanzitutto trovare qualcuno che abbia la voglia di ascoltare. E di esempi buoni non ce ne stanno più di tanti. Quando facevo la scuola elementare mi ricordo che per parlare bisognava alzare la mano. E allora la maestra ti dava la parola. Altrimenti dovevi stare zitto. Adesso parlano tutti. E parlano talmente tutti insieme che non si capisse niente. Quando ascolto qualche discussione a livello televisivo, di persone molto preparate ed esperte, siccome parlano una sopra l'altra, il povero ascoltatore non capisse niente. Voi forse più intelligenti di me capite di che cosa si sta parlando. Ma quando arriva la fine, finalmente, di questa discussione, io rimango lì con l'idea di che cosa ho capito, di che cosa si è parlato. Ed è una delle cose peggiori, perché è un cattivo esempio che gli diamo, che si traduce poi nei rapporti familiari. Chi è che parla in casa? Il papà? Il papà sembra che sia quasi muto. La mamma, no, la mamma non parla, la mamma urla. Ma perché la mamma urla? Perché nessuno l'ascolta. E allora, per farsi sentire, urla. Ricordo che una sera ero a cena in una famiglia e c'era la partita di calcio subito dopo la cena e a un certo momento tutti in silenzio perché bisognava guardare la partita di calcio. E questa povera donna che stava lavando i piatti, come si dice, si è un po' rotta le scatole, ha fatto finta, o meglio, ha fatto cadere un paia di piatti per terra, quindi silenzio, tutti sbigottiti, si è avvicinata e ha detto ma io posso parlare qualche volta anch'io qui? Perché parlate di partita, di calcio, di giocatori, di voi, e io sto qui solo a lavorare. Posso parlare qualche volta anch'io? Ho paura che questo si verifichi anche oggi. I ragazzi, non parliamo i più grandi, ma anche i più giovani vogliono parlare, vogliono farsi sentire. E molte volte non hanno nessuno che li ascolta. Non c'è più il papà che ha il tempo e la voglia di dire spiegami, dimmi, ma ascolta quello che ti dico io, ascoltami. No, no, io ho altro da fare. Devo giocare con il marfon, devo andare a vedere il filmetto, devo fare altre cose. Non c'è più la possibilità di un dialogo interpersonale, perché per ascoltare bisogna che ci sia una persona che parla e uno che ascolta. Può anche criticare, può anche non essere d'accordo, ma se tu non ascolti quello che ti si dice, non capirai mai niente e non ci sarà più possibilità di comunicazione. Quindi, la pazienza di ascoltare e di avere il buon esempio, ripeto, che dovrebbero darci tutti quando discutono e non parlano contemporaneamente tutti insieme. Io mi auguro che durante la cena, guardiate pure la televisione, la partita, stasera c'è il Napoli, ieri sera c'era la Roma, discutiate chi è più bravo, chi è meno bravo, ma delle cose di tutti i giorni, delle come è andata a scuola, che cosa avete combinato, con chi avete misticiato, cioè che ci sia questo minimo di dialogo, ma che ci sia la mamma e il papà disposti ad ascoltare, anche a correggervi, anche se a voi i consigli dei genitori, come si dice, danno sempre e solo fastidio e nessuno vuole sentire. Quando sarete grandi, capirete quanto sia importante la capacità di ascoltare l'altro, l'altro nel senso più vasto della parola. E poiché siamo i seti, credo oggi, no? E allora, domani auguri, auguri, viva e viva le donne. Grazie. Grazie davvero, Monsignor Angelo Santarossa. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Ci troveremo poi nei prossimi appuntamenti. Occhio al microfono, non ce lo porti via. Scoperto dalla guerra di finanza di Gorizia un falso procacciatore d'affari. Il prossimo servizio. Un falso agente di commercio residente in provincia di Udine è stato denunciato dalla guardia di finanza di Gorizia per truffa aggravata nei confronti di una persona residente a Trieste di cui aveva carpito la fiducia dopo averla conosciuta in un torneo di poker in un casino di Nova Gorizia. Il presunto truffatore aveva riferito di occuparsi della compra-vendita e dell'import-export di vetture nuove usate con l'Estremo Oriente, promettendo rendite da capogiro se avesse potuto disporre di somme rilevanti da investire in negoziazioni con alcuni concessionari di Hong Kong. Era riuscito così a ottenere 470.000 euro in contanti pari ai risparmi di una vita rassicurando ripetutamente il suo interlocutore sul buon andamento e sulla redditività dell'iniziativa commerciale in realtà mai intrapresa. A scoprire l'attività illecita sono stati i finanzieri dopo aver acquisito numerose testimonianze, analizzato i conti correnti e perquisito il domicilio dell'indagato. Come abbiamo detto ieri non c'è stata questa corsa diciamo così ai CAF agli uffici postali per presentare la domanda per accedere al sussidio io lo chiamo così del reddito di cittadinanza ma si respira nell'area come tra poco ci racconterà Denis Magro una certa euforia euforia da reddito di cittadinanza prego dottore sì euforia perché chiaramente finalmente come tutte le cose che ci aspettano da un sacco di tempo si è resa reale si è resa viva la cosa e quindi molte persone anche se non stanno facendo la fila sono felici euforiche di poter accedere a questo sussidio tra un mese paradossalmente una mia riflessione poca gente a fare le file per richiedere reddito di cittadinanza e parallelamente non si trovano persone disponibili generiche per un lavoro generico quindi questo sta a indicare che fortunatamente perlomeno nella nostra provincia il tasso di disoccupazione non è così alto su 300 mila abitanti 8-9 mila avrebbero comunque diritto a ricevere questa forma appunto di questa stampella ecco mi sentono gli amici di 5 stelle che già mi hanno rimproverato perché ho usato certi no 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 vabbè assolutamente però io che sono a contatto diciamo con le agenzie per il lavoro per ragioni professionali sfido molti anche se vogliono mettersi in contatto con voi che cercano un lavoro diciamo con disponibilità insomma ad adattarsi a fare un lavoro di mettersi in contatto direttamente con la redazione perché sarò ben lieto di aiutarli diciamo in senso lato non voglio un'agenzia interinale per il telepordenone che ha già le sue cose da questo per dire non per sostituire i centri per l'impiego o quant'altro proprio per dire come c'è stata poca gente in in posta anche non si trovano le persone però vede a me viene da sorridere cercasi operaio fin qua ci siamo specializzato è sempre lì io conosco situazioni e mi metto poi anche nei panni delle persone che stanno cercando lavoro non serve più essere operaio apprendista imparare cercano tutte le aziende ormai la specializzazione allora il cosiddetto gap della disoccupazione se cerchiamo tutte le figure già specializzate come riusciamo ad abbatterlo allora lei sicuramente ha ragione ma io le dico fortunatamente le aziende cercano ancora molti molti generici sicuramente abbiamo la lista di persone che dicono non riusciamo a trovare perché non abbiamo la specializzazione ma ripeto sempre per dare un suggerimento alle persone bisogna cercare di uscire un attimo fuori dagli schemi classici da ciò che siamo titoli non titoli prima di tutto bisogna avere la forza e la volontà di mettersi in gioco io posso entrare anche da da ultimo all'interno di un'azienda e diventare il primo se mi faccio cioè se sono capace se do la mia disponibilità le caratteristiche importanti sono l'affidabilità affidabilità significa arrivare in tempo al lavoro non guardare due minuti non sbuffare essere sorridenti queste sono le cose che tutti quanti cercano e forse da lì si comincia a diventare specializzati quindi lei sta dicendo che se anche una persona che cerca di lavoro vede l'annuncio rigorosamente dedicato agli operai specializzati e lui non la specializzazione può comunque buttarsi ma si sa mai che l'azienda possa recepire il messaggio assolutamente perché posso garantire che molto spesso le persone non vengono assunte per competenze perché chiaramente non è un vestito su misura ciò che cerca l'imprenditore ma per come si presenta l'individuo e quindi per un discorso di empatia e a volte anche di simpatia grazie al dottor Denis Magro il nostro psicologo parliamo adesso di Pedemontana il TAR dichiara inammissibili ricorsi contro la regione Veneto il servizio Pedemontana il TAR dichiara inammissibili ricorsi contro la regione del Veneto la sentenza è stata depositata oggi dal Tribunale Amministrativo Regionale una sentenza che definisce con chiarezza come percorso giuridico adottato per la realizzazione della Pedemontana ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia sia e sia stato corretto ricordo che affrontando questo dossier abbiamo coinvolto la Corte dei Conti l'ANAC e la Vocatura dello Stato i due ricorsi sono stati proposti da Salini Impregilo con intervento ad adiuvantum di Codacons e di alcuni privati il TAR Veneto ha dichiarato inammissibili i ricorsi sotto vari profili ha respinto tutte le domande di condanna della regione Veneto al risarcimento danni e ha disposto che il ricorrente risarcisca alla regione stessa le spese di giustizia il TAR tuttavia non si è fermato alle questioni processuali è fatto sapere l'ufficio stampa in una nota ma ha esaminato anche il merito della controversia dando atto in modo analitico che le modifiche apportate alla concessione nel 2017 dalla regione non comportano un nuovo equilibrio economico dell'operazione a favore della concessionaria ne comportano una diversa allocazione dei rischi tra le parti ho nominato commissario per l'opera il vice avvocato generale dello Stato Marco Corsini ha detto ancora Zaia e abbiamo affrontato tutte le procedure in maniera legittima e trasparente ora il TAR riconosce la pulizia e correttezza assoluta dei procedimenti adottati allora Maurizio vediamo se mi fai vedere questa locandina eccola qua l'allevamento in gabbia è un incubo a cui possiamo mettere fine unisci ti oggi al movimento per vietare le gambe Alessandra Marchi Movimento Animalista delle Friuli Venezia Giulia avvocato ben ritrovato innanzitutto grazie per essere con noi come possiamo mettere fine a questo incubo dell'allevamento in gabbia possiamo veramente mettere fine a settembre 2018 è partita un'importantissima campagna da Bruxelles che si chiama End the Cage Age cioè fine dell'età delle gabbie che cosa significa? vogliamo porre fine a questa barbarie che c'è negli allevamenti delle gabbie e liberare finalmente gli animali dalle gabbie e introdurre dei metodi negli allevamenti che siano più sostenibili come fare tutto questo? è possibile firmare una petizione anche online e questo fino alla fine di settembre 2018 alla quale appunto hanno aderito ben 24 paesi e non sono pochi 145 associazioni ambientaliste ed animaliste in Italia ce ne sono addirittura 20 che hanno aderito tra cui appunto la LEIDA la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente che sul proprio sito dà la possibilità di firmare questa petizione in che cosa consiste? la comunità europea dà la possibilità ai cittadini di partecipare nell'iter legislativo con appunto la sottoscrizione di petizioni possiamo veramente dare voce fino ad oggi abbiamo raccolto 600 mila firme l'obiettivo è quello di arrivare ad un milione di firme in almeno sette paesi dell'Unione Europea questo significa porre finalmente fine a questa barbarie dicevo che coinvolge 300 milioni di animali abbiamo visto anche di recente delle immagini terrificanti che hanno fatto il giro diciamo nelle televisioni anche nazionali di come sono detenuti questi animali in gabbia di quelle che sono le loro condizioni di vita e di sofferenza non è più il tempo di dire non so non vedo non conosco c'è invece la possibilità veramente di fare qualcosa mettete questa firma questa petizione è possibile online poi in alcune città italiane ci saranno addirittura i banchetti per raccogliere queste firme è molto importante perché se riusciamo in questa cosa significa riuscire a livello europeo a imporre delle regole molto più umane se vogliamo nei confronti di questi animali del loro benessere e la fine di queste torture la fine della loro vita in gabbia e con laddove si può perché gli allevamenti sono sempre allevamenti ma dare un minimo di rispetto una volta per tutte grazie davvero Alessandra Marchi Movimento Animalista del Friuli Venezia Giulia poi tornerà con noi nei prossimi appuntamenti allora andiamo con il prossimo ospite Michela Dalbo presidente delle politiche femminili per Confimprese Nord-Est beh sicuramente sono settimane molto concitate si è parlato di reddito di cittadinanza ma si è parlato anche di infrastrutture e di opere viare vedassi appunto la TAV opere appunto che potrebbero mettere in collegamento ancora meglio l'Italia con gli altri paesi grazie ovviamente presidente per essere con noi io partirei direttamente dalla TAV partirei dall'ultima dichiarazione di Conte che dice non ne vedo l'utilità io dal mio punto di vista modestissimo dico che un paese evolve se ad evolvere sono anche le infrastrutture buonasera beh assolutamente sì ormai di TAV sono quanti anni che se ne parla tantissimi perché ci sono scontri ci sono stati le manifestazioni perché non la voleva eccetera io penso che in un paese dove all'interno di una comunità c'è praticamente l'alta velocità quindi questo tipo di struttura arriviamo a Lione e per arrivare a Torino non so potremmo fare il treno a vapore per per far sì che l'ambiente sia tutelato cioè diventa veramente una cosa vergognosa al di là di questo dobbiamo considerare il fatto che comunque i lavori sono già stati iniziati cioè qui si tratta anche di perdere parecchi soldi non solo la facciamo o non la facciamo soldi e posti di lavoro quindi sta diventando veramente un balletto delle barzellette perché un governo che si dichiara tale deve comunque decidere andare avanti con i lavori perché comunque il buco è fatto che si dica o non si dica e definire una volta per tutte questa realtà ma purtroppo qua anche oggi se abbiamo molto velocemente ne parliamo abbiamo visto che ci hanno veramente messo quasi declassato abbiamo non una crescita al zero ma siamo addirittura in recessione cioè mi chiedo come possiamo dopo aver avuto comunque una crescita e un certo tipo di di andamento come possiamo oggi di nuovo essere in recessione cioè noi veramente ci aspettavamo quasi dei miracoli da questo governo mi sembrava invece in realtà si è fermata l'economia ci sono fermati i consumi e questo comincia a diventare veramente preoccupante ecco io mi collego però è doveroso con il reddito di cittadinanza ce l'hanno venduto uso questo termine forte come diciamo così la panacea di tutti i mali cioè nel senso attenzione occhio vediamo com'è l'economia riparte non riparte era necessario introdurre queste misure ma abbiamo visto soprattutto che in alcuni territori le adesioni sono state pari a zero abbiamo visto insomma la nostra destrattagliamento come veramente le richieste e gli accessi siano stati veramente ai limiti ai minimi allora guarda io le posso esprimere il mio pensiero vivo prego prego allora il reddito di cittadinanza non è altro che un voto di scambio semplicemente un voto di scambio perché questi hanno fatto una campagna elettorale promettendo dei soldi a titolo gratuito a delle persone che li hanno votati e oggi vicino alle europee non possono permettersi di non mantenere le promesse ed è ora che la gente si svegli cioè non è possibile che siamo ancora all'epoca della democrazia cristiana quando facevano delle altre cose però la realtà non è ancora cambiata quindi il reddito di cittadinanza a mio avviso non deve assolutamente esistere cioè dovrebbero assolutamente bloccare questa operazione perché non serve a nessuno se non a 5 stelle a prendere i voti alle europee stiamo a vedere allora come andrà a finire grazie intanto a Michela Dalbo Presidente per le politiche femminili di Confimprese Nord-Est Alessandra Marchi il nostro avvocato ha parlato quindi di gabbie le modalità appunto quindi per salvare gli animali da queste barbari da queste torture andiamo adesso con l'assessore del comune di Pordenone che si occupa di animali e di ambiente Stefania Voltin assessore ben ritrovata grazie per essere con noi Gatti e Mangini sì in ottemperanza molto caldo sicuramente per Pordenone in ottemperanza la legge 20 numero scusi numero 20 del 2012 anche il comune di Pordenone ha fatto gara per l'acquisto del Mangime per il mantenimento di tutti i gatti di Colonia quindi i gatti che insistono nel territorio di Pordenone quindi volevo ricordare ai referenti che ancora non l'avessero fatto di contattare l'ufficio di tutti gli animali allo 0434392615 e di prendere ripetiamolo un'altra volta magari sono la signora Maria a casa che deve prendere la signora 0434392615 e prendere appuntamento per il ritiro del Mangime ricordo che in tale occasione dovete compilare il modulo con il censimento dei gatti presenti nelle vostre rispettive colonie assessore colonie feline come è la situazione nel comune di Pordenone ma siamo stabili sulle 120 colonie feline a Pordenone quindi non c'è diciamo così un allarme o delle criticità no sono abbastanza sotto controllo infatti io ringrazio ancora di cuore tutti i referenti che tutti i giorni si rendono disponibili per dar da mangiare a tutti questi gatti che poi alla fine sono i gatti del comune senta è Gattile? Gattile stiamo aspettando adesso gli ultimi finanziamenti per poter terminare anche quest'opera spero di poterla mettere in funzione e quindi fare la convenzione nei prossimi mesi quindi insomma siamo agli sgoccioli il 2019 dovrebbe essere quindi l'anno assolutamente anche perché ci sono già dei comuni che mi stanno chiamando per vedere se si possono convenzionare quindi cercare di fare una cosa fra più comuni magari con i comuni con termini a Pordenone bene una battuta invece sulle tematiche ambientali Stefania Boltinga cosa sta lavorando in questi giorni? oggi per dire ho avuto un incontro anche sul problema della cimice la cosetta la cimice asiatica credo esattamente la cimice asiatica adesso è uno dei temi caldi anche per gli agricoltori ho seguito questo convegno in cui si parlava di un insetto autotono che cosa fa questo insetto si riproduce all'interno delle uova delle cimici quindi è un insetto parassita non dannoso per noi ma uccide tutte le cimici o buona parte quindi delle culture si potrebbero aprire degli scenari importantissimi infatti sto cercando di i nostri agricoltori che ricordiamo negli anni sono stati massacrati da questa cimice asiatica si già da domani mi interfaccerò anche con delle altre persone per capire quali potrebbero essere gli scenari che si potrebbero aprire Pordenone potrebbe essere pilota a guidare questa iniziativa deve essere fatto con più comuni non può essere fatto in un'area molto ristretta quindi bisogna farla con più comuni in modo tale da estendere questo tipo di attività ci torneremo sicuramente su grazie Stefania Boltina assessore del comune di Pordenone andiamo invece adesso con Fabrizio Venier componente del direttivo regionale del partito democratico in Friuli Venezia Giulia ci eravamo lasciati appunto con le anticipazioni con gli auspici per le primarie le primarie del partito democratico quindi l'elezione del nuovo segretario nazionale ha vinto Zingaretti Venier se l'aspettava questa nomina ma soprattutto che scenari adesso si aprono internamente al partito democratico in vista dell'appuntamento più importante che sono le elezioni europee ma allora velocemente come avevo già detto giovedì scorso io ho sostenuto Zingaretti il risultato è stato positivo mi ha sorpreso lo dico con molta sincerità la grande affluenza il che sta a significare che a volte anche coloro che in qualche modo lavorano si muovono nell'ambito della politica fanno difficoltà a percepire quello che sta succedendo la percezione c'era di una grande insoddisfazione però il risultato è stato al di là per quanto mi riguarda delle aspettative importante ritengo che Zingaretti possa costruire con il suo anche la sua personalità tra virgolette un po' così molto più tranquilla e molto più bonaria chiamiamola così in termini molto e anche con una grande capacità di relazionarsi con il sentore di quello che è in qualche modo una delle parti della componente del centro-sinistra quindi mi aspetto sicuramente una stagione nuova una stagione dove tutti si devono impegnare a superare quello che giustamente è stato un passato senza recriminazioni ovviamente però considerando e dando anche un senso al fatto che se si è perso degli elettori vuol dire che qualcosa è mancato quello che mi lascia perplesso al di là dell'elezione di Zingaretti quindi diciamo di questa nuova fase del partito è una cosa che mi ha colpito leggevo appunto prima di questo segretario di Crotone della Lega che fa uscire questo manifesto per l'8 di marzo estremamente discutibile a tal punto che lo stesso da quello che ho letto stesso Saldini diciamo ha dichiarato di non condividere bene sì sì bene ecco però questo ci fa capire ci fa ci fa sentire quello che in qualche modo c'è un'aria un po' tetra che sta girando un po' anche nell'Italia di chi vede alcune conquiste civiche superate chi in qualche modo vuole riproporre anche culturalmente un modo un'analisi estremamente datata ecco questo è un pericolo al di là di chi lo fa però è in dubbio dobbiamo registrare se vogliamo essere oggettivamente presenti quindi ben venga quello che poi Saldini ha detto ha ribadito disconoscere questo però questo ci dovrebbe far pensare sufficientemente più quindi domani è la festa delle donne ma è la festa diciamo di quello che si può intendere come famiglia una famiglia a mio avviso allargata non è la famiglia solamente tradizionale perché ormai stiamo vivendo una situazione diversa dove però ognuno ha i suoi compiti dove la donna ha i suoi compiti l'uomo ha i suoi compiti i figli altrettanto mi è piaciuto l'intervento del monsignore ho aggiunto che alla fine essendo io insegnante chi deve alzare la mano per parlare a volte in classe è l'insegnante non l'alunno non l'alunno insomma siamo ormai arrivati ai paradossi grazie a Fabrizio Veniere componente del direttivo regionale del partito democratico in Friuli Venezia Giulia prima di dare la linea al Veneto per l'ultimo ospite interverrà l'amico consigliere di Teglio Veneto Zanon parliamo di chiusura liti fiscali pendenti insomma le modalità come quando e perché argomento sicuramente di ottilità molto importante per parlare di un argomento così importante non potevamo non chiamare Francesca Vaccaro la nostra dottoressa commercialista prego dottoressa ben trovati la novità infatti riguarda l'argomento che ha anticipato il direttore cioè la chiusura delle liti fiscali pendenti una di quelle novità introdotte per agevolare la chiusura delle pendenze in questo caso con Equitalia ecco la novità è perché nasce dal fatto che ieri è stato emanato un provvedimento che ha garantito l'operatività del sistema quindi adesso è possibile presentare la domanda e fare la richiesta per l'attivazione di questa forma di sgravio chi è coinvolto almeno per la parte operativa di cui parliamo in questa sede sono coinvolti gli articoli 6 e l'articolo 7 del decreto di attuazione e cioè del decreto che attua questo provvedimento e cioè tutti i contribuenti che hanno una pendenza un contenzioso in cui una delle due parti sia l'agenzia delle entrate e che in cui l'atto introduttivo cioè la prima citazione del giudizio sia stata fatta alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e che alla data in cui si decide di usare questa nuova piattaforma e quindi presentare la richiesta per accedere all'istituto non sia ancora giunta a un giudizio definitivo se ci sono questi requisiti è possibile utilizzare la piattaforma e chiedere lo sgravio e questo è l'articolo 6 l'articolo 7 invece riguarda le società e associazioni sportive direttantistiche esclusivamente quelle che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte al registro del CONI bene queste sono innanzitutto le figure come operare allora la procedura richiede una presentazione di una domanda entro il 31 maggio 2019 siamo quindi con i tempi abbastanza stretti entro la stessa data deve essere pagato o l'importo intero o l'importo della prima rata è possibile infatti rateizzare fino a 20 rate se l'importo è superiore a 1000 euro il pagamento deve essere fatto in termini tempestivo ovviamente ma è previsto che i lievi in adempimenti è già stato chiarito non siano pericolosi per l'istituto cioè non decada l'istituto in caso di lievi in adempimenti cos'è un lievi in adempimento? sono previste due possibilità o il versamento insufficiente della rata se è insufficiente per un importo fino al 3% a meno che questo 3% non sia superiore ai 10.000 euro non è considerato causa di decadenza e il lieve ritardo della prima rata se il lieve ritardo è fino ai 7 giorni non è considerata causa di decadenza detto questo è importante ricordare che la modalità con cui si può presentare questa procedura è esclusivamente telematica quindi ci si deve rivolgere o direttamente agli uffici provinciali dell'agenzia delle entrate che assistono in questa fase e rilasciano un protocollo oppure a un intermediario quindi un commercialista o un consulente del lavoro per esempio oppure è possibile aspettate che mi sono persa un attimo è possibile anche iscriversi scusate giusto iscriversi direttamente agli uffici telematici dell'agenzia delle entrate questa è una procedura magari per chi è più avvezzo a giocare diciamo con internet e iscriversi e chiedere le password e usare i servizi telematici direttamente segnalo per ultimo che se durante questi contenziosi è stato già pagato una parte dell'importo dovuto all'agenzia delle entrate questo può essere scomputato dal conteggio e in caso questo importo sia superiore a quello che adesso risulterebbe dal versamento della sanatoria non si ha diritto comunque a nessuna restituzione ricordo come ultimo intervento il 31 maggio quindi è necessario esaminare le pratiche e attivarsi subito attivatevi non perdete tempo e seguite come sempre i consigli preziosi della nostra dottoressa commercialista Francesca Baccaro grazie a quella dottoressa per essere stata in nostra compagnia Rosario a te il compito di chiudere questa prima parte del telegiornale vedo già che sei in compagnia dell'amico Zanon a seguire l'Osme e la Borsa tutte le altre notizie che arriveranno dalla tua redazione e da quella di Udine la serata poi come sempre proseguirà all'insegna dell'informazione grazie Alessandro Zanon consigliere comunale di Teio Veneto dunque si conclude la consigliatura ufficialmente ancora non esiste una data per le elezioni amministrative verosimilmente potrebbe coincidere il turno amministrativo con quello dedicato al rinnovo del Parlamento Europeo quindi il 26 di maggio mancano ancora un paio di mesi dovrebbero esserci già i primi movimenti le prime riunioni però nei paesi in cui si andrà a votare sembra che tutto sia ancora fermo forse perché le modalità di comunicazione anche stanno cambiando sì beh sicuramente è il momento dei tatticismi questo tuttavia è la difficoltà ricorrente parlo del territorio ma non solo credo sia quella di reperire effettivamente i candidati anche proprio che andranno a comporre le liste e sarà anche difficile le dico raccogliere le firme ma le firme tutto sommato penso che sia il problema minore proprio i candidati disposti a entrare nel consiglio comunale oltre che a candidarsi alla figura di primo cittadino e questo credo che sia dovuto a molte difficoltà non ultima l'idea della politica in sé che sappiamo il trend è essere negativo ormai da diversi anni a questa parte e purtroppo riguarda anche i comuni quindi le elezioni amministrative non solo a livello politico più alto secondo lei ci saranno appena due liste come al solito a Teglio Veneto oppure dobbiamo aspettarci qualcuno che rompa le nuove nel paniere non credo che ce ne siano più di due anche perché significerebbe aumentare di proposito il problema di reperire ulteriori candidati quindi credo che si attestino indicativamente a due certo che al momento ancora ufficialità non ce ne sono noi come gruppo uscente stiamo lavorando per cercare di dare continuità al lavoro positivo di questi anni cercheremo di farlo nel modo migliore anche se effettivamente non lo nascondiamo le difficoltà del caso ci sono sono evidenti però cercheremo comunque di garantire appunto la continuità con l'inserimento anche di forze nuove giovani nuove con anche magari delle donne che ne abbiamo estremamente bisogno in politica grazie Alessandro Zanon restituiamo dunque la linea qui dalla Veneto dopo la break le notizie del METO quelle di Udine della redazione di TPN Friuli TPN Udine torneremo qui in Veneto per le ultime notizie a fra poco intanto restituiamo la linea grazie a più tardi Buonasera a tutti la situazione meteorologica vede per la giornata di domani permanenza ancora di nuvolosità e umiltà in montagna con delle precipitazioni qualche pioggia debole o moderata a fondo valle qualche nevicato oltre i 2.400 metri circa variabilità invece su piena ora costa anzi con ampi spazi di sole specialmente sulla costa dove soffiera tratti vento dal mare debole o moderato nel pomeriggio temperature stazionarie tra 7 e 17 gradi in pianura tra 10 e 14 lungo la costa la giornata di sabato vedrà ancora poco nuvoloso la possibilità di qualche panco di neve notturno in pianura e costa più nubi in montagna ma neanche tanto e comunque probabilità di precipitazioni è molto bassa temperature indiave a carlo in valori massimi intorno ai 14 gradi in pianura 12 sulla costa dove soffiera ancora un po' di vento da sud domenica coperto nuvoloso coperto qualche foschia probabilità di precipitazione sarà bassa non esclusa qualche breve debole pioggia ma insomma ben poche cose temperature rimangono sostanzialmente stabili le minime in ulteriore calore massime intorno ai 12-13 gradi forse un fronte veloce lunedì che porta un po' di bora qualche precipitazione o qualche rovescio e un calo delle temperature naturalmente ne riparleremo nuova liquidità in arrivo dalla BCE che a sorpresa ha anche modificato la guidance sui tassi promettendo tassi a zero per tutto il 2019 la reazione del mercato è stata inizialmente positiva per poi virare a ribasso soprattutto una volta che Mario Draghi ha dettagliato le nuove stime di crescita economiche tagliate con decisione rispetto a quelle di tre mesi fa il messaggio di base della BCE è stato negativo e questo si è riflesso sul mercato azionario argomenta David Madden market analyst di CMC Market UK il fuzzo in Miba ha così aggiornato prima i massimi annui intraday sopra il muro dei 21.000 punti poi ha invertito la rotta e ha chiuso con un meno 0,74% lo sarà chiuso con un meno 0,78% il nuovo round di operazioni trimestrali mirate di rifinanziamento a lungo termine il tiltro partirà da settembre 2019 e terminerà nel marzo 2021 tra gli investitori c'era chi puntava su un via già a giugno inoltre la BCE ha modificato la Farward Guidance con tassi fermi per tutto il 2019 in questo caso per le banche si è lontana il momento del primo rialzo del costo del denaro che offrirebbe sostegno alla redditività per ritornati dunque gentili amici amiche la visione all'ascolto continuo l'informazione su TPN per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia a fianco a me Maurizio Franz assessore comunale dei grandi eventi a Udine parleremo tra poco con lui prima però il treno dei servizi 26esima indagine congiunturale dell'artigianato in provincia di Udine se ne è parlato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutosi nella sede di Confartigianato Udine nel periodo preso in esame dal 7 al 31 gennaio 2019 si registra un nuovo passo avanti del giro d'affari per l'impresa artigiana della provincia di Udine dopo l'inversione in tendenza messa a segno a gennaio 2018 quando per la prima volta dopo 11 anni le imprese intervistate nell'ambito dell'indagine congiunturale restituivano un'istantanea positiva quest'anno il trend si consolida dal 7.2% dell'anno passato il saldo d'opinione sul fatturato annuale passa al più 10,9% un dato che sembra mandare definitivamente in archivio i periodi più buoi della crisi quando lo stesso indicatore era sceso fino al meno 33.9% del 2015 questo è un dato che ci conforta però va anche visto da che cosa è derivato derivato anche dalla riduzione del numero intanto il mercato interno che ha avuto questa ripresa e dipende anche dal fatto che molte aziende hanno chiuso e quindi quelle aziende che hanno saputo resistere conservarsi trasformarsi e innovarsi hanno ricevuto maggiore richiesta quindi hanno implementato i loro fatturati i loro volumi di affari un dato invece che non è che si accompagna che non si accompagna alla crescita è quella di nuovo difficoltà nei pagamenti anche da parte del cliente privato non parliamo nella sub fornitura di nuovo allungamento dei termini di pagamento e difficoltà di accesso delle nostre imprese in particolare per lo smobilizzo dei crediti e anche per gli investimenti il report dice con chiarezza che più le aziende sono strutturate più migliora il giro d'affari la correlazione tra la variabile dimensionale ed il saldo d'opinione messa in luce dall'ufficio studi dimostra infatti che l'andamento del giro d'affari migliora al crescere della grandezza delle imprese quelle con fatturato fino a 50.000 euro hanno un saldo d'opinione negativo meno 4.3% che diventa appena positivo per quelle tra i 50 e i 100.000 euro di fatturato più 5,7% per arrivare infine all'exploit delle imprese più spallate da 200.000 fino a 500.000 euro il saldo è del 38.9% da 500.000 euro in su supera addirittura il più 40% dinamica simile per gli addetti le imprese con un fatturato si fermano al più 1,6% di saldo d'opinione sul fatturato contro il 55,9% di quelle con più di 10 addetti tutto questo grazie anche ad una maggiore apertura di credito da parte delle istituzioni bancarie il tema è questo se tu aumenti il fatturato è chiaro che se non hai il tuo capitale circolante devi fare il corso al credito se poi dall'altra parte non viene puntualmente onorato ecco che ti mette un po' in difficoltà ma affrontare difficoltà di credito nei momenti di crescita del fatturato se accompagnato anche dai pagamenti puntuali è un indice positivo io credo che anche il sistema bancario una volta completate le sue riforme ciò che rimane del credito del sistema bancario locale parlo di BCC o ciò che è rimasto parlo di credito agricol o parlo di Cividale ormai che sono le uniche banche rimaste sul territorio una volta completati i loro cicli di ristrutturazione credo che dovranno rivedere la loro politica di sostegno alle piccole imprese giovani, maschi, laureati emerge anche questo come identikit del giovane imprenditore non è solo giovani non solo maschi ma anche donne perché il dato migliore che abbiamo noi di aumento di crescita di impresa è declinato al femminile qui è declinato per il successo ma credo che la sorpresa grossa sia l'aumento del numero delle imprese guidate dalle donne ma anche questo è un dato anche nel cambio generazionale molte sono le figlie o le donne che sono subentrate nella guida delle argente di famiglia per quanto concerne l'export è importante guardare oltre il mercato domestico per avere un ampliamento del proprio mercato con performance migliori per il giro ed affari per quanto riguarda l'occupazione l'85.7% dei lavoratori dipendenti sono occupati a tempo indeterminato leggermente inferiore all'anno precedente che contava su un 86.2% su tutte le criticità gli artigiani denunciano la crescita dei prezzi praticati dai fornitori segnalata dal 51.2% degli intervistati oltre la metà e infine per quanto riguarda le previsioni prevale l'ottimismo alla maggior parte degli artigiani chiamati in causa dall'indagine ritiene che nel primo semestre 2019 andrà ancora meglio nel 2018 l'auspicio naturalmente che venga confermato anche a consultivo ogni giorno dovremo comunque di sistema dobbiamo essere positivi perché se no ottimisti se no non apriremo le nostre saracinesche poi alla fine queste speranze di aumido i volumi speriamo e vorremmo e faremo di tutto perché poi si traducano in consultivi positivi ma se noi avremo consultivi positivi credo che ne trarrà vantaggio tutta l'economia regionale nazionale ultima rifinitura al Bruseschi prima della partenza per Torino dove domani sera le 20.30 all'Allianz Stadium l'Udinese affronta la Juventus nell'anticipo del campionato di Serie A il tutto per permettere a Madama di preparare al meglio la delicata sfida di martedì prossimo nel ritorno di Champions League contro l'Atletico di Madrid sulla carta gara delicata anzi da uno fisso ma alcune assenze soprattutto il return match di Coppa potrebbe regalare liete sorprese tifosi friulani Allegri tecnico juventino ha fatto sapere che Bonucci Chiellini e Cristiano Ronaldo partiranno dalla panchina mentre Manzuchic e Dybala sono in dubbio la Juve padrona assoluta del campionato più 17 sul Napoli se contiamo il punto extra per aver vinto gli scontri diretti con ancora 36 punti sul piatto può giocare con minore intensità senza dover sudare le famose sette camice accontentandosi anche del pareggio mentre l'udinese a più sette dal terz'ultimo a Bologna deve giocoforza fare calcoli per non trovarsi più avanti nella tempesta della zona retrocessione mister Nicola è fiducioso dei suoi uomini convinto che domani sera questa giovane udinese possa anche fare lo sgambetto alla vecchia signora con umiltà e rispetto dovuto tanto la palla è rotonda e il calcio una materia non esatta e allora Maurizio Franz parte questa importante weekend il treno insomma che porterà Udine al centro del mondo con il campionato del mondo del Sauvignon insomma diciamo così degustazioni e soprattutto tanta tanta friulanità in un certo senso ma senz'altro è uno dei grandi eventi che il comune di Udine naturalmente assieme alla regione e all'ERSA che sono i veri protagonisti di questa manifestazione all'onore e il piacere di ospitare a Udine e di ospitare a Palazzo d'Aronco in Sala Iace quindi nel cuore del Friuli avremo 23 nazioni cioè gli esperti che arrivano da 23 nazioni saranno circa un'ottantina di loro che degustare sono tutti sommelier sono giornalisti esperti che in qualche modo saranno chiamati ad alleggere il miglior Sauvignon bianco del mondo e ci sono oltre 1000 campioni anche questo è un record proveniente da 24 nazioni un po' da tutto il mondo e un ruolo importante ce l'avrà anche qua la regione Friuli Venezia Giulia e i nostri vigni che saranno presenti e speriamo che ottengano un grande risultato ma il risultato ci sarà comunque sarà una grande vetrina promozionale come dicevo di Udine ma dell'intera nostra regione perché poi tutti questi illustri ospiti li porteremo in giro per tutto il Friuli gli faremo conoscere le bellezze paesaggistiche storiche e culturali della nostra regione quindi una grande vetrina promozionale per tutto il Friuli Assessore ci sono state comunque delle polemiche perché dobbiamo giustamente fare cronaca e dire ci sono state delle polemiche qualcuno insomma vi ha puntato il dito dicendo che i soldi spesi sono un po' esagerati per quanto riguarda poi il ritorno d'immagine lei cosa risponde? come vi dicevo Udine ha il piacere di ospitare questa manifestazione quindi l'unico nostro costo che abbiamo sostenuto come stazione comunale è quello di mettere a disposizione il palazzo d'Aronco la sala Iace e tutte le sale antistanti quindi per il resto naturalmente bisognerà ragionare con la regione però come dicevo non so quale sia la reale portata dei costi che sono sostenuti ma chiaramente ogni manifestazione che abbia una rilevanza internazionale che veda ospiti che arrivano come dicevo da tutte le parti del mondo perché fra questi 80 persone tra questi esperti arrivano da 23 paesi chiaramente penso che l'ospitalità sia dovuta e soprattutto anche i tre giorni che loro passeranno qua perché poi diventeranno i migliori ambasciatori del Friuli e della nostra terra ecco però non sono in grado di rispondere sull'entità dei finanziamenti che dicevano non dipendono dall'amministrazione comunale di Udine ma senz'altro il ritorno in termini di immagine sarà importantissimo e mi auguro anche i risultati spero che i nostri vini ancora una volta i nostri Sauvignon bianchi che sono delle eccellenze ottengano dei risultati adeguati e poi naturalmente il risultato finale il concorso si chiuderà a Udine ma poi la premiazione finale sarà Dusendorf il 17 di marzo e anche quella sarà una grandissima vetrina promozionale a Pro Wain e quindi la fiera specializzata di vini una delle più importate al mondo e quindi sarà un'altra importantissima vetrina per l'Ersa e per il Flori Venezia Giulia quindi io ritengo che siano investimenti importanti che daranno ricadute positive sull'intero territorio chiaro senta lei ha sottolineato una cosa importante mettere insieme anche fare squadra questo è un po' il concetto perché non nasce nulla dal niente soprattutto far conoscere anche la cultura del vino queste occasioni servono in particolare a questo cioè non è la sagra ma è presentare un prodotto che comunque verrà esportato a livello mondiale e il Flori Venezia Giulia ha delle aree dove il Sauvignon ha la sua particolarità beh senz'altro stasera proprio ci sarà un convegno su questo tema qua con dei grandi esperti che parleranno del Sauvignon bianco e naturalmente la regione Flori Venezia Giulia anche qua sarà protagonista come sarà protagonista visto l'elevato numero di aziende che parteciperanno a questo concorso qua e poi si tratta di un discorso anche di educazione di educazione al bere di educazione verso il vino che ricordiamo rappresenta non solo un'eccellenza dal punto di vista agroalimentare ma rappresenta anche una grande risorsa economica per la nostra regione per cui unire il discorso tecnico al discorso economico penso che sia fondamentale questa manifestazione comunque non è aperta al grande pubblico come dicevo ma è proprio una cosa riservata agli esperti del settore ma gli effetti promozionali e poi le ricadute saranno sull'intero territorio insomma non solo acqua ma soprattutto vino perché col vino si fa cultura come ha detto anche giustamente e turismo ecco e no turismo non dimentichiamocelo soprattutto per far conoscere quelle che sono le aree produttive della nostra regione abbiamo il collio abbiamo i colli orientali le grave insomma pianura facciamo il vino anche sull'acqua anche in montagna meglio di così è impossibile non trovare vino ai Friuli Venezia Giulia i protagonisti sono il consorzio delle doc del Friuli Venezia Giulia quindi anche qua parliamo delle eccellenze e come sappiamo il vino rappresenta un grandissimo effetto promozionale insomma diventa l'occasione per far conoscere una realtà piccola come il Friuli Venezia Giulia nel mondo e quindi è un grande onore poter ospitare questa importantissima manifestazione ma soprattutto sapremo che le ricadute saranno notevoli per l'intero territorio io ringrazio l'assessore ai grandi eventi del comune di Udine Maurizio Franz per la partecipazione ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto termina la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia ma come sempre l'informazione continua con le ultimissime dal Veneto dopo il break pubblicitario benvenuti 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 dalla redazione di TPN Veneto apriamo subito con una brutta notizia da Portogruaro indignazione in pieno centro per una svastica comparsa sul muro esterno dell'Ipsia Monsignor D'Alessi il simbolo della Germania nazista verrà quanto prima rimosso su disposizione della dirigente scolastica Anna Maria Zago è stata informata dell'accaduto questa mattina al rientro dalle lezioni una mano sconosciuta ha vergato la svastica probabilmente con uno spray di colore bianco in un muro perimetrale che si trova proprio di fronte in via Camillo Valle anche all'istituto Giovanni Pascoli una scuola media Caorle l'incubo è finito e per un lungo periodo lui il protagonista negativo di questa faccenda non potrà più procurarle noie giustizia è stata fatta per la ventenne di San Giorgio di Livenza riconosciuta dalla magistratura maltrattata e perseguitata dal suo ex compagno un cittadino marocchino di 33 anni che è stato definitivamente condannato a una pena di tre anni e tre mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti lesioni incendio rintracciato dai carabinieri di Caorle oggi è stato sbattuto in una cella del carcere di Pordenone tre anni fa al culmine di una lite incendiò la casa popolare i vigili del fuoco di Portogruaro salvarono l'intera palazzina in apertura di telegiornale il nostro direttore Alberto Comisso ha parlato di un'esplosione al bancomat di Rivignano delle poste ebbene c'è stato un secondo tentativo non andato per fortuna a buon fine in territorio Veneto e precisamente a Torre di Mosto a due passi dal centro ai danni della locale filiale del Credì Agricola Friulatria per cercare di forzare la cassa i banditi hanno usato una carica esplosiva rivelatasi però insufficiente lo sportello ha retto e ai malviventi non è rimasto altro che darsi alla fuga altro da fare che darsi alla fuga per strade secondarie prima dell'arrivo dei carabinieri di Sanstino e di Portogruaro che ora si stanno occupando delle indagini ultimo colpo in zona fu l'assalto al postamat di San Giorgio di Livenza prima di Natale l'ufficio è stato riaperto solo da poche settimane Manuel Bortuzzo si allena in acqua e farà il nuotatore paralimpico il giovane poche settimane dopo il fatto che l'ha visto protagonista a Roma quando è stato raggiunto da un colpo di pistola alla schiena che l'ha reso paralizzato dalle gambe in giù può già tornare in acqua come scrivono Simone Canettieri e Maria Lombardi la sua sfida è stata riconquistare bracciata dopo bracciata quello che la vita gli ha strappato il 3 febbraio scorso Manuel Bortuzzo ricordiamolo venne avviato al nuoto dove rimase per qualche anno al centro nuoto di Portogruaro quando abitava a Santa Sabina una frazione di sesto al Reghena nato a Trieste viveva a Morgano nel Trevigiano grave incidente ieri a metà pomeriggio a Massanzago in provincia di Padova una Volkswagen Golf condotta da un trentenne di Salgareda con accanto la madre avrebbe passato l'incraccio semaforico e si sarebbe schiantata contro una Opel Zafira condotta da un quarantottenne romeno residente in provincia di Venezia il Salgardese è stato ricoverato in elicottero all'ospedale di Padova sono stati fissati per la giornata di domani venerdì 8 marzo i funerali del pescatore di Caorle Franco Gusto 57 anni ucciso da un malore in barca mercoledì era cugino di secondo grado dell'ex sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello in serata era programmato il rosario esecue domani nel Duomo di Caorle a partire dalle ore 15 Portogruaro elettrodotto inquinamento a San Nicolò saranno il tema di un'assemblea pubblica organizzata venerdì 15 marzo alle ore 18 in municipio Sanità ok del Consiglio Veneto al riparto di fondi 2019 e 2020 l'assessore Lanzarin conferma fatto un buon lavoro ed è stato anche un lavoro tempestivo verranno distribuiti 16,4 miliardi in un biennio Iesolo il centro di urno Sandro Pertini si conferma importante punto di incontro e di aggregazione di integrazione sociale in grado di favorire arricchire e sviluppare le relazioni interpersonali nel corso di questi ultimi anni è diventato il fulcro di molteplici attività e iniziative che coinvolgono oltre 800 iscritti corsi concerti feste incontri culturali concerti attività motorie giochi teatro canto il calendario è ricco e si dipana su tutti i sette i giorni della settimana offrendo occasioni di svago impegno incontri contatti che favoriscono il benessere psicofisico e contrastano l'insorgere di situazioni di isolamento sociale e di emarginazione 800 numero perfetto quello relativo alle iscrizioni destinato appunto ad aumentare al via i nuovi lavori nei bacini idraulici dei fiumi Piave e Sile impegnati ulteriori 500 mila euro dalla regione sentiamo i dettagli nel servizio firmato dal nostro collega Alessio Conforti nei giorni scorsi è stato aggiudicato l'appalto relativo ad una serie di lavori che interesseranno i corsi d'acqua che ricadono nei bacini idraulici del fiume Piave e Sile situati nell'area centrale della città metropolitana di Venezia in una notizia alla regione del Veneto allo scopo di mantenere sempre massimamente efficiente la struttura arginale ha detto l'assessore regionale alla difesa del suolo Giampaolo Bottacin con questi ulteriori lavori provvederemo a realizzare nuovi tagli di alberature lavorazioni di sfalcio decespugliamento e disboscamento di petti sommità scarpate e banche arginali in sinistra e destra idraulica i comuni interessati dagli interventi oltre alla città metropolitana sono quelli di Fossalta di Piave Noventa di Piave Musile Sandonà Iesolo Eraclea Quarto Daltino e Roncade la presenza di vegetazione erbacea ed arborea sulle arginature dice l'assessore oltre ad essere di ostacolo al libero deflusso delle acque potrebbe infatti nascondere o in generale l'attivarsi di condizioni di instabilità del corpo originale stesso con la creazione di frane e infiltrazioni per questo abbiamo deciso di avviare questo ulteriore intervento per il quale abbiamo impegnato mezzo milione di euro che si somma ai 600.000 investiti nel 2018 i lavori prenderanno avvio nel corso della primavera in continuità con il completamento di quelli dello scorso anno e proseguiranno durante l'intero 2019 concordia sagittaria in 300 hanno preso parte mercoledì sera rispettando la tradizione alla festa della renga festa della aringa organizzata dalla proloco per le ceneri la città di jesolo entra a far parte della rete comuni ciclabili i particolari nella prossimo servizio affirma sempre di adesso conforti il progetto per rendere jesolo sempre più città delle due ruote promuovendo al contempo una mobilità sostenibile e attenta all'ambiente si arricchisce di un ulteriore tassello la giunta comunale infatti ha approvato l'adesione alla rete comuni ciclabili iniziativa della federazione italiana amici della bicicletta giunta alla sua seconda edizione che punta ad attestare il livello di ciclabilità dei comuni e ad inserirli di conseguenza nella guida ai comuni ciclabili d'Italia dandone così visibilità a livello nazionale accanto all'attività di raccolta dati necessari alla valutazione la partecipazione alla proposta della FIAB costituisce anche occasione per diffondere e promuovere esempi virtuosi e stimolare una sana competizione tra le località in questo modo è possibile individuare quelle più a misura di ciclista sull'esempio di molte città europee che già adottano standard avanzati evidenziando quelle realtà più adatte ad essere vissute e visitate in bicicletta e incentivando le amministrazioni a rendere i comuni sempre più accoglienti a residenti e turisti desiderosi di viverli e visitarli con le due ruote l'adesione a questo progetto evidenzia l'assessore all'urbanistica della città di Jesolo Otello Bergamo si affianca alle strategie già messe in atto dall'amministrazione per il potenziamento della fruibilità ciclabile del territorio e della promozione della mobilità sostenibile faccio riferimento al programma di percorsi ciclopedonali in fase di progettazione e in parte di prossimo avvio l'iniziativa comuni ciclabili ci consentirà di dare ulteriore slancio alle linee di indirizzo che ci siamo dati a promuovere la fruibilità e l'esperienza della località in modo alternativo bene ci avviamo alla conclusione del nostro telegiornale dal Veneto vediamo lettura di una notizia dell'ultima ora delle 20 e 48 nel tardo pomeriggio intervento dei vigili del fuoco in via Guglielmo Marconi a Rubano siamo in provincia di Padova per l'incendio di un'automobile l'autista dell'utilitare accortosi del fumo nell'abitacolo è sceso mentre l'auto si è incendiata i pompieri arrivati da Padova hanno spento il rigore delle fiamme raffreddato l'auto per permettere il recupero del carroattrezzi le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora nella nota dei vigili del fuoco non viene specificato alcunché sull'esito delle operazioni per quanto riguarda le persone coinvolte quindi si presume che nessuno si sia fatto male o sia rimasto intossicato FS italiane Alvia in Veneto il test per le tariffe dinamiche per i treni regionali la presentazione di questo nuovo servizio è fissata per venerdì 8 marzo alle ore 11 e 15 a Palazzo Balbi d'Orsoduro 39.01 a Venezia un messaggio molto chiaro si può definire netto per ribadire in queste giornate dedicate all'8 marzo il no alla violenza né fisica né psicologica né in casa né al lavoro parlare di violenza al femminile è di grande attualità e un gruppo di Meduna di Livenza precisamente di Brische sta facendo parlare di sé oltre i confini regionali veneti in un contesto come quello attuale italiano dove da esponenti anche del governo si sta facendo molto per sminuire il ruolo e la figura della donna più che nel governo nel Parlamento tutto pronto dunque in Friuli a Prata dove sabato 9 marzo 2019 verrà messo in scena dalle ore 20 e 45 uno spettacolo teatrale incentrato sul tema scabroso della violenza alle donne si intitola Esther non per mano tua e verrà inscenato dal gruppo parrocchiale di Brische di Meduna di Livenza che si chiama Prenderemo il Largo parteciperà Franco Grigol che interpreterà con un sottofondo musicale i testi di Ezio Carrega Roberto e Franco Basso il recital musicale è stato proposto con successo e consensi in tutto il nord Italia l'evento rientra nel programma dell'arrivo del simulacro della Madonna dei Miracoli nella chiesa di Prata di Pordenone in prestito dal santuario di Motta tra l'altro sabato c'è la cerimonia di donazione dell'olio che alimenterà la lampada votiva per un anno a Motta di Livenza al mattino alle 10 verrà anche ricordato il 60 anniversario dalla ordinazione del vescovo emerito di concordia Pordenone Ovidio Poletto una cerimonia questa che si terrà appunto verrà celebrata sabato alle 10 a Motta di Livenza nel santuario Madonna dei Miracoli a Portogruaro festa della donna domani alle 16.30 verranno lette storie di donne eccezionali in biblioteca ai Molini alle 18 sarà inaugurata la mostra omaggio ad Alda Merini presentato ufficialmente a Palazzo Balbi lo scorso dicembre IT IESOLO progetto di turismo enogastronomico fa la sua prima tappa in Europa per promuovere la cucina e la tradizione veneta nel continente sarà svelato infatti alla stampa tedesca oggi con una cena al ristorante Malatesta affacciato sulla Gendarmermarkt di Berlino dove saranno serviti piatti tipici della regione appositamente preparati dagli chef IESOLANI Renato Manfret del ristorante Laguna e Omar Zorzep del ristorante da Omar dopo vi leggeremo qualche altra notizia dell'ultima ora dal telefonino intanto vi diciamo che a Caorle domani alle ore 20 nella tensa struttura di Piazza Mercato ci sarà una serata ludica per il carnevale alle ore 21 invece percorsi di primavera fotografica un dibattito di fotocine club al Bragosso in centro civico notizia dall'ultima ora a Treviso precisamente a Vazzola apre un bar un bar ristorantino e il titolare è un ragazzo con la sindrome di Down quindi sicuramente una notizia importante per l'inclusione nella società di queste persone tra l'altro proprio in serata ne ha dato notizia la terza carica dello Stato il Presidente della Camera Roberto Fico e anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Roma sono stati ricevuti gli atleti della Nazionale Italiana che parteciperà a un'importante competizione sportiva special Olympics ad Abu Dhabi ed è stato un incontro sicuramente molto significativo tra l'altro ci sono delle richieste ben specifiche chiedo alla Regione sforzo visto che ci mancano almeno un paio di minuti se possiamo riproporre le immagini della prima notata perché è una notizia che farà la storia del 2019 della prima notata di Manuel Bortuzzo perché Giuseppe Giulietti noto giornalista che è anche presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana ha proposto qualcosa di diverso e di nuovo rispetto a quello che si è detto oggi e che si è detto anche nei giorni scorsi a proposito di Manuel Bortuzzo la notizia più bella riferisce in un posto Giuseppe Giulietti è il ritorno in vasca di Manuel Bortuzzo più forte dei banditi che gli hanno sparato più forte dei loro proiettili ecco la proposta di Giulietti che dice meriterebbe le più alte onoreficenze della Repubblica Italiana quindi Giulietti propone in sostanza la nomina di Manuel Bortuzzo come Cavaliere ed è una proposta di strettissima attualità perché proprio l'altro giorno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito del titolo di Cavaliere persone che nel corso del 2018 si sono prodigate durante episodi di particolare e meritorio senso civico grazie è davvero tutto dalla redazione del Veneto io vi saluto vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale dopo la sigla c'è il break con le previsioni di metodo al Veneto grazie ancora arrivederci venerdì sulle pianure fino a metà pomeriggio alternanza di nuvole rasserenamenti poi nuvolosità in diminuzione e cielo sereno o poco nuvoloso ovunque a tarda sera Fino al primo mattino e di sera qualche nebbia sui monti nuvoloso precipitazioni sulla pianura probabilità bassa 5-25% per piogge locali a tratti fino al pomeriggio più probabili in prossimità dei rilievi sui monti probabilità medio-alta 50-75% sparse discontinue con quota neve a 1200-1500 metri intensità generalmente deboli o dal più a tratti moderate accumuli modesti temperature rispetto a giovedì nelle ore notturne saranno in calo di giorno leggele o moderate diminuzioni in alta montagna e risalite sulla pianura mentre nelle valli senza variazioni di rilievo 20-25% deboli moderati in prevalenza da sud-ovest mare da molto mosso a mosso col passare delle ore so che si Grazie.